Nei giorni scorsi Alessandra Giuliano, attivista del Movimento 5 Stelle ad Agropoli, l'associazione Acome Agropoli con presidente Antonio Cedrola, il gruppo Facebook Agropoli Contè con amministratore Eliseo De Lipaoli e il consigliere comunale Pesca Mario hanno proposto all'amministrazione comunale l'iniziativa di realizzare due mini isole ecologiche posizionate all'entrata nord e sud della città per venire incontro ai cittadini ma soprattutto ai turisti che, a rientro dalle loro vacanze, non hanno modo di smaltire i rifiuti. Inoltre, nelle scorse settimane sempre gli stessi cittadini di Agropoli avevano chiesto all'ente comunale l'installazione per ogni rione della città di un contenitore per la raccolta degli oli vegetali usati e non più utilizzabili da posizionare accanto alle case dell'acqua per incentivare cittadini e turisti al corretto smaltimento. Dall'amministrazione comunale però ancora nessuna risposta in merito alla richiesta delle associazioni, proposta protocollata anche presso la casa comunale. Un esempio di cosa si potrebbe installare sul territorio, fanno sapere i cittadini, sono le colonnine bidoni posizionate sul lungomare di Pioppi dalla Sarim che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, pratiche poco ingombranti e molto efficienti per la raccolta degli oli esausti.